Gentili delle spettatori, buon pomeriggio, benvenuti alla visione del scolto di questo match di calcio tra le formazioni di Sporting, Eubea e Aquile Calatine. Si tratta della partita di ritorno, del primo turno di Coppa Italia, promozione, ovviamente parliamo della stagione 2016-2017. Il match d'andata, lo ricordo, si è concluso con le Aquile in vantaggio per due reti a zero, le marcatore siglatte da Ottavio Nicotra e dall'attaccante Abdullai. Ma ecco i due schieramenti, partendo dagli osciti, le Aquile Calatine così schierate. Polessi, Walli, Iannizzotto, Nicotra, Bartoluccio, Nigro, Altamore, Comendatore, Abdullai, Ruscica e Vittoria. Ecco invece la formazione schierata da mister Costanzo, Gandolfo, secondo Cucchiara, Favara, Costanzo, Segna, Varga, Vitale, San Martino, Caruso e Navanzino. L'arbitro dell'incontro è il signor Marco Riccobene, coadiuato dagli assistenti Elvira, Rizzo e Mircocino. Siamo tutti quanti della sezione arbitrale di Enna a seguire la formazione delle Aquile. anche una rappresentanza di tifosorie costituita da circa 30 unità che, come potete sentire, cercano con i loro cuori di incoraggiare la formazione del presidente Aldo Sortino e del direttore generale Massimo Parisi. Abbattere, come vedete, il calcio inizio e la formazione di casa all'altezza del disco centrale. San Martino che tocca in questo momento il pallone e noi cerchiamo di far partire anche il nostro di cronometri. Parte il destro di Favara, angolatissimo, si distente con i pugni allontana Polessi. La palla che rimane in campo viene raccolta da Navanzino. Rimane dunque in zona d'attacco alla formazione della sportiva Ubea. Navanzino, serie di finta, cerca di accentrarsi, parte il traversone sul primo palo, sia Cardoccio che blocca Polessi. Sfuma questa azione sicuramente pericolosa della formazione bianco-azzurra. Parte il destro di Nicotra, molto teso sul secondo palo. La palla che, insomma, fa, come dire, la barba al palo della traversa e finisce direttamente a fondo campo. Vitale spalla la porta ancora per secondo, rimane in zona offensiva dunque la formazione dello Sporting. Quindi ancora Vitale, parte il traversone di Vitale sul secondo palo, al volo e il gol! Gran bel gol dello Sporting che passa in vantaggio su questo preciso pieto sinistro di Caruso. Bell'azione, bel gol del bomber Caruso, esattamente al ventottesimo. In situazione dunque, gentili dei spettatori della formazione di casa a destra. Il protagonista sicuramente è stato Andrea Secondo. Bate i ribatti, scambio con il compagno Vitale. Il traversone che attraversa tutta l'area, arriva sul secondo palo. Lì dove tutto solo di fatto era stato lasciato l'esperto atacante Caruso, che di piatto sinistro ha tu per tu con Polesci. Non ha di fatto lasciato scampo all'estremo difensore delle acque e le galettine. Abdullai velocissimo, adesso verso altre quattro avversari. L'inserimento adesso è di vittoria, ma ferma il palone. Non aggancia, lo fa però in seconda battuta. Gandolfo e si salva lo Sporting Ubea da una situazione che stava per diventare veramente molto complicata. Attenzione, controattacco pericoso di Abdullai. Corpo a corpo consegna Abdullai. Si allunga troppo la palla e sfuma questa ghiotta occasione in contropiede per le Aquile con palla che giunge tra le braccia di Gandolfo. Formazione nuovamente in campo, gentili dei spettatori. Ovviamente parliamo di Sporting Ubea e Aquile galettine. nel match di ritorno del primo turno di Coppa Italia, promozione. Raggiunge qualche modo Caruso. Caruso che entra pericolosamente in area, carica il destro, la palla sotto misura. Viene messa in corner opportunamente da Nigro. Anzi, scusate, da Bartoluccio e la difesa dalle Aquile si salva. Azione pericolosa dello Sporting Ubea. Può disimpegnare lo Sporting con Caruso a centrocampo che ha la meglio. Lascia il prosiglio per la nombra, vantaggio, si bolla tutto solo Caruso verso l'area avversaria. Va a chiudere, commentatore, che lo strattona. Vediamo se è in area. E calcio di rigore. Calcio di rigore a favore dello Sporting. Autentica ingenuità difensiva delle Aquile galettine che di fatto avevano rallentato l'azione credendo che l'arbitro stesse per assegnare punizione a centrocampo per un fallo di fatto subito da Caruso che invece ha resistito, si è involato verso l'area avversaria. A quel punto commendatore non ha potuto fare altro che spingerlo con un'ancata. Il numero 5 Bartoruccio che dunque, buscandosi tra virgolette la seconda punizione, viene espulso. Cambia poco il concetto. Al ventisesimo la formazione delle Aquile galettine rimane in dieci uomini. con adesso la ghiotta opportunità per lo Sporting e Ubea di andare sul 2-0 su questo calcio di rigore che sta per essere battuto da Caruso. Caruso contro Polessi. Il fisco dell'arbitro. La lunga rincorsa di Caruso. Il destro di Caruso e la palla in gol. Sporting e Ubea 2. Aquile galettine 0. Si torna in perfetta parità. La palla che sfila pericolosamente. La intercetta Varga ai 25 metri. Cerca un dribbling. Palla sul destro. Parte il tiro pericolosissimo. Centra l'arrore e spinge. Non blocca però Polessi. La palla che resta lì in area di rigore. Corpo a corpo tra Nigro e San Martino. La palla che canabola fuori. Il destro di Favara che calcia verso la porta direttamente. Con i pugni allontana la palla sul secondo palla. Ancora pericolosamente. Resta lì in area. Il destro di Varga e la palla sul. Parte alta della traversa. Illusione ottica del gol. E Sporting vicinissimo al terzo gol. Arriva infatti il doppio fischio del signor Riccobene. Dunque perfetta parità. Dopo il 2 a 0 dell'andata delle Aquile. Arriva quello dello Sporting. Qui sul terreno di gioco del Franco Vassallo di Ligodia e Ubea. Perfetto equilibrio. E adesso decideranno i tiri dagli 11 metri. Bene inizia la sequenza dei calci di rigore. Iniziano proprio i peroni di casa. I biancazzurri dello Sporting e Ubea. E lo fanno con il loro attaccato di centrale. San Martino. Quindi primo calcio di rigore affidato al destro di San Martino. San Martino contro Nicola Polessi. Mentre l'arbitro ha fatto, come dire, correggere la posizione dove deve stare fuori dai 16 metri insomma del portiere dello Sporting. Tutto sembra pronto per la battuta di questo primo piazzato dagli 11 metri. Fischio di destro di San Martino. E la palla in gol. Praticamente imparabile. Aveva intuito il Polessi ma traiettore angolatissima di piatto destro di San Martino che va a fare va a baciare il palo alla sinistra di Polessi e si insacca. Quindi 1-0. Adesso è la volta di Ottavio Nicotra contro Gandolfo. Gandolfo che ha sicuramente giocato una buona partita. Intanto vediamo il destro di Nicotra che non lascia scampo. Anche Gandolfo di fatto ha intuito la traiettoria ma tiro anche questo molto angolato. Uno pari. è la volta di Favara. Il suo destro è la parata di Polessi. Dunque sbaglia il primo rigore la formazione bianco-azzurra. Lo fa con uno dei giocatori sicuramente migliori che abbiamo visto in entrambi i match il giovane centrocampista Favara. E' la balla in gol stavolta l'ha messa l'esperto Nigro. Dunque 2-1 il conto dei corner il conto dei calci di rigore è la volta di Vitale adesso il destro spiazza Polessi battuta forte ma centrale Polessi si era lanciato sulla propria sinistra e mette in gol 2-2 quindi altro calcio di rigore per le Aquile stavolta è commendatore che va a calciare commendatore contro Gandolfo il tiro e la palla in gol spiazzato il giovane portiere dello Sporting e siamo sul 3-2 quindi ribadiamo anche per quanti si fossero posti in ascolto e alla visione in questo momento tre rigori calciati per parte tre su tre le Aquile uno ne ha sbagliato la formazione dello Sporting Eubea con il giovane centrocampista Favara adesso è la volta di Senia Senia contro Polessi il destro di Senia e la palla in gol serie di finte hanno ingannato Polessi aveva in un certo senso anche stavolta ha intuito la traiettoria del pallone ma allora calcio di rigore numero 4 per le Aquile Galatine dal dischetto Enrico Ruscica destro di Ruscica e si fa parare il tiro adesso è la volta di Varga il suo destro e la parata di Polessi la volta di Abdullai il fischio il destro e para ancora Gandolfo il destro la palla in gol il gol è stato realizzato da Scollo si incarica della battuta di questo sesto calcio di rigore la giovane Cimino il destro di Cimino la palla in gol precisa la battuta di piatto sinistro che spiazza l'estremo difesore avversario con palla da una parte e portiere appunto dall'altra adesso va se non erro Cucchiara è il numero 3 Cucchiara e tira fuori quindi settimo di fatto questo è il settimo calcio di rigore Gianni Zotto ha sul piede la qualificazione ed ecco il passaggio del turno lo guadagnano i giocatori delle Aquile Calatine sulla realizzazione di questa settima marcatura dagli 11 metri effettuata da Gianni Zotto mentre si accetta si accetta l'attuazione una mischia a centrocampo tra un paio di giocatori con mister Costanzo che ha avuto un duro faccia a faccia con credo Cimino adesso insomma cerca di chiarirsi con Samuel Buoncompagni non so cosa abbia detto fatto Cimino fatto sa che si è molto arrabbiato mister Costanzo a ogni buon conto è stata una festa una gran bella partita anche questa così come avevamo visto nel match d'andata peccato che adesso ci sia questo nervosismo è un derby ricordiamoci e non dimentichiamolo che tutte e due le squadre fanno parte di questo importante territorio che è il comprensorio galatino e quindi una purtroppo doveva andare fuori dal primo turno questa è la regola a stabilirlo sono stati i calci di rigore ma certamente lo Sporting Obea ha disputato una grandissima partita tant'è vero che ha ribaltato il 2 a 0 dell'andata pareggiando con una doppietta di Caruso un gol per tempo al ventottesimo prima e al ventosettesimo poi della ripresa sul calcio di rigore formazione biancorossa quella che è rimasta in dieci uomini ciò malgrado ha resistito nell'ultimo quarto d'ora e poi le due formazioni se la sono giocata insomma ai calci di rigore ora delle aquile calatine che quindi avendo realizzato un calcio di rigore in più passano il primo turno di Coppa Italia 2016-2017 relativamente al campionato di promozione grazie della cortesa attenzione prestata gentili telespettatori appuntamento ovviamente alla prossima e la prossima sarà la prima di campionato bene dopo partita di questo match di ritorno primo turno di Coppa Italia lo ricordiamo da Sporting Obea e Aquila Galatine finito 2 a 0 dopo i 90 regolamentari dopodiché si è passati ai calci di rigore dove al settimo di punizione massima dagli 11 metri hanno avuto la meglio i biancorossi di Caltagirone ha sofferto la tua formazione rispetto all'andata merito loro dei bianco-azzurri o qualcosa in meno hanno dato in termini di gioco i tuoi giocatori lo hai detto perfettamente entrambi le cose un primo tempo inesistenti da parte nostra e abbiamo avuto tanta difficoltà nel fraseggiare noi siamo una squadra tecnica che gioca balla a terra quindi magari non vorrei farmi un alibi del campo però giustamente non ci siamo abituati quindi tanti errori elementari appunto di fraseggi merito a Ligodio che è veramente una squadra discreta in casa si farà rispettare sempre e non mi sono dispiaciuti il secondo tempo è cambiato qualcosina abbiamo giocato il secondo tempo una buona mezz'ora però poi non capisco e poi avrò il piacere di rivedere nelle immagini il rigore perché a mio avviso era almeno due metri fuori l'aria poi è caduto dentro l'aria e hanno segnalato il calcio di rigore quindi un regalo assolutamente a quanto pare da come ero messo io attenzione vorrei poi rivedere proprio le immagini a proposito dei regali magari non è chiarissima lo rivedremo ma avete contraccambiato tra virgolette il regalo difensivo che loro hanno fatto all'andata con quello svarione anche stavolta però la retroguardia galatina si è fatta trovare impreparata che cosa è successo in quel frangelo? a un certo punto si è trovato insomma in volato Varga tutto solo verso l'aria avversaria nel rigore era Caruso era Caruso mi sembra che è caduto in aria comunque noi dobbiamo sempre considerare che ci sono gli avversari quindi di conseguenza lo svarione ci può stare perché se in un 90 minuti se non ci fossero errori le partite finirebbero 0-0 quindi lo svarione ci può stare però devo tanto lavorare e ancora per quello che voglio io siamo parecchi lontani sul piano atletico dei miglioramenti ci sono stati mi pare che ci sono già numerosi giocatori in palla sul piano proprio fisico quello che lo è meno e che ha grossa responsabilità in termini di impostazione di gioco è sicuramente Ruscica che non è stato autore di una straordinaria partita soprattutto nel secondo tempo è solo questa la ragione quella la condizione fisica non al meglio? No io ripeto siamo molto in ritardo nella preparazione e questo ci penalizza un poco soprattutto nella parte finale Ruscica gli ho dato un compito quest'anno che è un po' particolare siccome è uno tecnico è intelligente tatticamente e tecnicamente deve essere servito molto ma molto di più se Ruscica ma così come un trequartista è un normale insomma qualsiasi trequartista se non viene servito se non viene messo spesso in causa gioca poco ed è quello che è successo oggi adesso il punto di vista di mister oggi anche giocatore difensore centrale dello Sporting UB a Samuele Costanzo diciamo prima con Samuele Buoncompagni della importante prestazione della tua squadra il risultato parla chiaro il 2-0 che ha riequilibrato le sorti di questa qualificazione poi è decisa dal dischetto credo che tu abbia poco da rimproverare ai tuoi ma volendo cercare per uno nel luogo che cosa c'è che non ha funzionato? no 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 per uno no io ci siamo lasciati dicendo la volta scorsa a Caltagione che volevo che i ragazzi mettessero qualcosa in più rispetto alla prestazione che avevano fatto già domenica perché io penso che domenica abbiamo fatto una grande partita ci è mancato il gol oggi abbiamo messo quello che abbiamo messo domenica scorsa siamo stati fortunati a sbroccare la partita poi penso che abbiamo ci siamo sforzati anche oggi di giocare a calcio abbiamo creato tanto abbiamo messo la partita un'altra volta in pari e poi all'ultimo l'episodio con Varga che ha calciato fuori questa potrebbe essere diciamo la cilicina sulla torta però sono felicissimo veramente sembrava una una banalità però sono veramente contento di quello che abbiamo fatto oggi perché domenica ci aspetta il campionato e quindi è la giusta mentalità per affrontare domenica la partita è una banalità che è una banalità che è una banalità